Gian Rodetti di nuovo nella zona centrale della pista della Marca Chau Le due ritorne di marcia E poi passerà sotto i voti di partenza Eccolo qui, Gian Rodetti, una grande campione E l'applauso della punta del Master Show Alla prima volta Siamo i vostri campioni in Francia Regno, questa luna è l'applauso della punta del Master Show E grazie per averci portato in alto per una fina forza Che sta splendida, Renone Canna F1 Team R26 Ritorna alla volante della sua vettura Dopo la saluta della punta del Monza E lascerà questa pista della Master Show Gian Rodetti, Megane F1 Team R26 Riccardo gli ultimi applausi, Gian Rodetti, Inversione di Marcia Eccoci All'ultimo saluto Grazie, Gian Rodetti